E' irremovibile, vuole salpare domani. E' minorenne, firmi lei il consenso e faremo l'intervento. L'amputazione emotivamente può essere... Ha convinto mia moglie a prendere le sue parti. Basta la firma di un genitore. E' per il suo bene. Mi sta chiedendo di distruggere la mia famiglia. Le sto chiedendo di salvare la sua famiglia. Quando ha fatto la prima attraversata in solitario, ha ottenuto dal tribunale di diventare una minorenne emancipata. Lo chiederà di nuovo. E vincerà. Riuscirà a fare quello che vuole con me o senza di me. Preferisco che lo faccia con me. Grazie. Grazie.